Amici, oggi dovrei fare la solita presentazione con siamo qui con questo personaggio, bla 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 bla, ma chi è che non conosce Luca Viscardi? È un giornalista, lo conoscono tutti come Mr. Gadget, sappiamo che ha fatto un sacco di radio, fa di tutto di più e quindi io non dico nient'altro. Ciao Luca, benvenuto. Ciao Massimo e grazie a voi per l'invito. Senti Luca, io vorrei farti delle domande perché sono un po' di giorni che da quando ti ho contattato, Fremo, ci sono un po' di cose nuove che bollono in pentola, ti sto seguendo. So che dopo tanti anni di radio l'hai lasciata e non fai più parte di Radio Number One, ma tu hai passato tantissime radio, hai una storicità incredibile, quindi non vorrei stare qui un'ora a raccontare cosa hai fatto. Qui c'è roba che bolle in pentola, attenzione, che c'è roba che bolle in pentola nei prossimi giorni e arriverà. Ma una domanda è, siccome me l'hai già fatta, siccome ho spoilerato ad alcuni che ti facevo questa intervista, ritornerai in radio oppure no? Eh guarda, ci siamo quasi. Siamo, non ho ancora la possibilità di svelarlo perché altrimenti credo passerei un po' di giorni crocifisso in sala mensa, devo aspettare insomma i tempi di chi deve dare questa informazione, ma ormai siamo lì. Sai che con questo spoiler mi ricordi un amico comune che abbiamo che ha lavorato anche con te, che adesso è Radio DJ, immagina di chi sto parlando, di Gianluca Gazzoli. Certo. Che io conosco da tantissimi anni perché tanti anni fa abbiamo fatto un corso in Google assieme, insomma ci conosciamo da tanto tempo e io mi ricordo quando lui non poteva spoilerare che sarebbe andato in questa radio e gli scriveva e diceva guarda che non posso dire niente, guarda che non posso dire niente. Quindi ci sono anche dei contratti, normale, quindi non ti chiedo nient'altro, hai dato questo micro spoiler e mi fermo qua. Ci siamo, ci siamo qua, però ormai è proprio una questione di, non dico minuti, ma secondi. Bene, bene, bene. Senti, siccome in tanti nel web ti conoscono col tuo pseudonimo Mr. Gadget, parli di tecnologia, dicevo prima che tante cose stanno volendo in pentola, io le ho viste, ti seguo su tutti i social, ti seguo anche su LinkedIn, cosa sta volendo in pentola? Ci puoi spoilerare qualcos'altro? No, questo posso proprio raccontarvelo. Sta volendo in pentola il fatto che Mr. Gadget è diventato una property, come dicono quelli bravi, di Next Digital Publishing, che è una nuova startup innovativa che ho avviato con due soci, sono Massimo Colombo e Giona Granata. Ognuno di noi ha delle competenze profondamente diverse, la mia più sui contenuti, quella di Massimo invece più sullo sviluppo del business e quello di Giona invece sulla parte tecnologica. Il nostro team si è già allargato fino a sei persone, tra videomaker, sviluppatori e chi si occupa della parte di social e marketing, si espanderà ulteriormente nelle prossime settimane perché appunto Mr. Gadget vuole diventare qualcosa di più del mio blog personale dedicato alla passione della tecnologia. Stiamo lavorando, uno dice, cosa c'è di innovativo nel fare un sito internet? Stiamo lavorando ad una piattaforma molto evoluta, ci farà un po' di tempo per vederla perché lo sviluppo non è proprio semplicissimo, ma siamo convinti di poter portare qualcosa di interessante, di innovativo sul panorama, sempre con l'obiettivo che rimane invariato, che è sempre stato un mio pallino, non riesco proprio a togliermelo dalla testa, è il fatto di voler comunicare a persone che vogliono avvicinarsi alla tecnologia ma che non sono impallinate, per cui per chi è più nerdi, tra virgolette, ci sono già tantissime opportunità. Noi cerchiamo invece di comunicare, di esprimere, di portare informazioni a coloro che si sono lì, guardano con un po' di diffidenza, ma aspettano solo qualcuno che gli dica dai, entra anche tu per partecipare alla festa. Certo, ma io però ho visto che qua e là si parla anche di marketing, quindi non c'è solamente la divulgazione tecnologica, almeno se ho potuto scoprire un po' di cose tra le righe, quindi c'è anche qualcosa che va al di là del racconto banalmente, scusa la faccio troppo semplice, il nuovo dispositivo che è uscito dalla tal marca, c'è anche altro o sbaglio? Sì, noi diciamo che stiamo intanto creando quello che noi chiamiamo, perché vogliamo usare solo l'inglese, quindi lo chiamiamo Premium Publishing Network, quindi è una rete di editori che in modo, tra virgolette, nativo, non hanno proprio la vocazione di seguire il tema della tecnologia o lo fanno solo marginalmente, hanno però un pubblico molto vasto, allora il nostro impegno è quello di comporre per loro dei contenuti che siano adatti ad un pubblico vastissimo, non specializzato, quindi con una semplicità di linguaggio, con una spiegazione molto chiara di quello che andiamo a presentare, quindi insomma adesso andremo a presentare anche questo circuito di testate che saranno in pratica un'estensione di Mr. Gadget. Quindi ci sono tante cose nuove Io adesso però vorrei farti una domanda che completamente passa da una cosa all'altra, perché abbiamo parlato di cose belle, di futuro, io vorrei parlare un po' del tuo recente passato che chi ti conosce sa che non è stato facilissimo 2020 per te, quindi ti sei portato dietro tutta una serie di ricordi probabilmente negativi, da lì hai scaturito un libro di cui hai parlato, della tua vicenda con il Covid-19, la vita piccoli passi No, è qua sopra, si intravede, si intravede del nero, esatto Esattamente, esattamente, quindi io penso che un po' tutti nella nostra vita abbiamo avuto momenti difficili, abbiamo visto anche delle cose molto più nere, diciamo di quello che si intravede nel tuo libro di colore, se mi passi il termine però probabilmente questo momento di sofferenza ci fa crescere e ci fa vivere, seppur con delle cicatrici, il futuro in maniera migliore e tu dici che vivere è il coraggio di affrontare la paura, è un bel messaggio questo qua Beh sì, io guarda, proprio un anno fa, ci pensavo qualche giorno fa, questi giorni di marzo, quando ho contratto il Covid ovviamente siccome mi piaceva provare tutto molto velocemente, ho voluto anche provare il Covid nel primissimo periodo ma poi io vivo a Bergamo, quindi diciamo che sono stato proprio colpito da questa ondata della prima ora proprio questi giorni erano quelli più difficili, più complicati di una malattia che ha un'evoluzione un po' strana, perché all'inizio arriva, sembra una cosa di poco conto poi, insomma, se tu la prendi di petto e la affronti nel modo corretto, rimane una cosa di poco conto se invece non prendi in considerazione il pericolo, questa è una malattia che poi si trasforma e diventa un nemico quando si dice mortale, insomma lo abbiamo visto, no? Perché si dice mortale io proprio un anno fa ho passato più di un mese in ospedale di questo tre settimane addirittura senza riuscire ad alzarmi dal letto quindi due settimane quasi in uno stato di semi-incoscienza, quindi veramente complicato e diciamo che il libro racchiude questo racconto non tanto come pianisteo come modo per creare compassione, perché non era quello l'intento ma cercando di spiegare invece come questa situazione che sembra così lontana sembra dover appartenere necessariamente a qualcun altro in realtà è qualche cosa che ci appartiene al 100% e che rischia di diventare nostra al 100% ed è per quello che ho cercato di miscelare un po' il racconto di una vita ultradinamica che all'improvviso trova un freno a mano tirato senza neanche la volontà di farlo con l'impossibilità addirittura di alzarsi dal letto e quindi quando succede una cosa di questo genere inevitabilmente un attimo ti fermi e dici spetta cioè in vista della prossima frenata se mai ci dovesse essere voglio continuare a vivere come oggi e lì ci sono tutta una serie di valutazioni importanti Bravo, è vero guarda io nel piccolo dieci anni fa ho avuto un problema abbastanza importante al cuore quindi mi sono ritrovato da agosto a stare bene andare a mangiare in montagna con amici a fine settembre, inizio ottobre ad essere un po' come te quindi in un letto, vestito, cambiato eccetera eccetera quindi da un certo punto di vista posso capire quello che dici e posso capire che ribadisco alcune cose sono da raccontare non per piangersi addosso ma per far capire che hanno una gravità noi tutti tendiamo a dire è qualcosa di qualcun altro speriamo che a me non succeda da ogni punto di vista sperare non è mai una buona soluzione no, infatti ma questo è infatti il tema quando io ripenso ad un anno fa ripenso al momento in cui ero essenzialmente dentro un letto come se fosse un salamoto incapacitato a muovermi arrivava qualcuno che mi faceva rotolare in una metà del letto perché nell'altra metà facevano le operazioni per cambiare le lenzuola e poi mi rigiravano e in quel momento per me era impossibile addirittura sembrava un'impresa impossibile passare questo minuto appoggiato sul fianco dovendo usare le mie forze per rimanere girato allora quando tu dici tutto bello, bellissimo, viviamo una vita meravigliosa facciamo un sacco di cose fighissime eccetera e poi all'improvviso ti trovi in una condizione di questo genere dici, aspetta un attimo abbiamo in effetti una condizione a cui non si pensa mai il famoso si sta come d'autunno sugli alberi le foglie però non ci pensi mai poi quando ti capita un pegnone più ci pensi ed è per quello che anche oggi quando uno mi dice sì ma io non posso andare al ristorante la sera lo faremo tra sei mesi pazienza ma io posso andare al mare lo faremo tra sei mesi cioè chiusi in casa io capisco che magari qualcuno è in case piccole con tante persone e la cosa non è facilissima non è bellissima da fare però io qua dietro le mie spalle guarda vi faccio vedere ho tutte queste belle cose qua che si chiamano libri insomma se proprio dobbiamo stare a casa apriamone una e passiamo qualche ora cioè nel senso io questo devo dire che ho proprio fatto ho scavallato rispetto ad un approccio che intanto non è quello di scapitare sempre per fare qualcos'altro ogni tanto dico sai cosa c'è adesso non faccio niente cioè prendere un po' di tempo anche per se stessi adesso io ho preso la passione della bicicletta assistita ma pedalo adesso spesso e volentieri e poi devo dire che adesso ho sviluppato una fortissima allergia ma proprio enorme a quelli che hanno sempre una sua migliore cioè io non so quando passerà il virus non so neanche come riusciremo a sconfiggerlo se lo faremo presto se lo faremo tardi sono stanco morto come tutti non vedo l'ora di sedermi a tavola come tutti gli altri la sera magari alle 10 con i miei amici e tornare a casa le due di notte fregandomene del del coprifuoco che non ci sarà più ovviamente tutti abbiamo questo desiderio ma io quello non ne posso più in questo momento sono quelli che hanno sempre una soluzione migliore io devo dire avete ufficialmente rotto le palle cioè non se ne può più non se ne può più non se ne può più cioè questa cosa che si ma e però ma si poteva è ma e basta penso che probabilmente a dire del fatto che tutti abbiamo sbagliato dal livello più basso livello più alto perché tutti comunque eravamo impreparato su alcune cose poi si può fare anche un discorso politico ma non è questa la sede no io penso comunque che di fronte a una cosa così inaspettata e così nuova per tutti per tutte le fasce di età sia comunque oggettivamente difficile quindi sono assolutamente d'accordo con te sul fatto di dire basta avete rotto dicevo un famoso adagio che il bel tacere non fu mai scritto bla 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 e poi si va avanti no quindi a volte sarebbe anche giusto usare qualche parola in meno rispetto che qualche parola in più quello quello guarda gli inglesi dicono sempre less is more noi diciamo un sacco di parole a volte anche a caso io dico in questa situazione ci siamo trovati tutti tutti indistintamente in una condizione che è come se ci avessero messo in una stanza e spento la luce e ci avessero una stanza che non conoscevamo avessero spento la luce e ci avessero detto e adesso trovate l'uscita se uno inciampa non è che gli puoi dire scemo perché ci ha provato e è inciampato nel senso e per cui insomma voglio dire stiamo tutti un po' andando la cieca e tutti credo stiano dando il meglio di sé poi non tutto viene bene abbiamo visto in questi giorni cosa è successo con i vaccini cosa vogliamo dire abbiamo chiesto i vaccini in tempi che sono un quinto del normale cosa può succedere con qualche effetto collaterale se non testiamo i vaccini per il tempo necessario che ci sarà qualche effetto collaterale vogliamo dare la colpa no purtroppo uno di quei diciamo rischi che tu corri perché dici se su 50 milioni di persone 4 persone vengono a mancare per il vaccino ci dispiace tantissimo siamo ovviamente addolorati per quelle 4 persone perché ce ne valgono quasi quanto 50 milioni però uno dice ah caspita però 49 milioni 999 mila 996 oggi stanno meglio grazie al vaccino per cui c'è questo inseguimento per cui non si può mai sbagliare io credo che oggi sia il nostro male principale vero senti ultima domanda perché poi so già che entriamo in un discorso che a molti non piacerà ma chi se ne frega ultima domanda poi ti lascio andare perché so che hai degli appuntamenti oggi visto che abbiamo parlato anche di aspetto di vita di abitudini io da anni che ti seguo e quindi ti vedevo un giorno fare una presentazione un giorno di qui un giorno di radio un giorno di là quindi correvi come un disperato quindi da una Ferrari la tua vita è diventata un po' un triciclo se mi passi un gioco di parole ovvio poi anche voluto quanto ti è cambiata non solo dal punto di vista organizzativo ma dal punto di vista umano quello che ti è successo e chiudendola così cosa vorresti dire magari a chi ti ha seguito e magari un consiglio che vuoi dare a qualcuno riguardo so entriamo in un campo un po' minato con i consigli però guarda allora quello che è cambiato a me è la voglia di fare le cose che voglio veramente fare senza farmi trasportare dall'onda è per questo che appunto era tanto tempo che giravo intorno al mondo di Mr. Gadget io se devo mettere delle energie lo faccio per quello che oggi fa crescere me ho ricominciato a studiare sto studiando tantissimo per cui questo è un altro aspetto che oggi non possiamo più fermarci dicendo io faccio questo da vent'anni e lo farò per altri trenta perché ogni cinque probabilmente il nostro lavoro cambia quindi questo è un aspetto importante e quindi io il consiglio che posso dare è di non dare mai per diciamo scontato e definitivo quello che si sta facendo cioè oggi ci sono molte persone che purtroppo rischiano di perdere il lavoro adesso è stato posticipato ancora questo rischio speriamo che non succeda però se dovesse succedere ci sono due modi stare lì a piangersi addosso e dire il mondo mi vuole male io sono sfortunato oppure cercare di capire con le proprie caratteristiche che cosa si possa fare domani io dico cercate di trovare il meglio che c'è dentro di voi e sfruttarlo per fare anche quello che vi piace allora la vostra vita sarà bellissima c'era un famoso detto anche lì adesso continuo a tirare fuori i detti quello che se tu fai qualcosa che ti piace non lavorerai mai l'ho buttata lì così però effettivamente è così anch'io come nel tuo caso sto facendo delle cose che mi piacciono ed è un vero e proprio lavoro e di lì a volte sono molto meno stanco rispetto magari 10-20 anni fa quando facevo un altro lavoro quindi il consiglio che hai dato secondo me è centratissimo in un momento in cui oltre che di salute si parla tanto di mancanza di lavoro quindi non sediamoci sul divano ne guardiamo solo Netflix non solo quello ma riprendiamoci per mano la nostra vita perché siamo noi che costruiamo il nostro destino usiamo la nostra creatività ce l'abbiamo sfruttiamola fino in fondo a volte non sappiamo neanche di averla ma bisogna tirarla è vero è vero è vero è vero senti Luca è stato veramente un piacere grazie perché queste quattro chiacchiere sono state molto carine grazie a voi e grazie a te ovviamente e spero a prestissimo ciao buona giornata tra l'altro e tanto ciao 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 ciao